Benvenuti oggi a questa festa, non un saggio, non è un talent, è semplicemente un modo per far suonare i bambini, divertirsi e per qualcuno far vedere quello che hanno studiato dell'Arco di Milano. Ringraziamo l'Aufus per averci ospitato, ci sarà modo poi di dire due parole in più e di un ringraziamento. Adesso iniziamo con un bambino che si chiama Andrea Donetti. Applauso! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!